Allora! Pronto? Andrea Serrano, sono Oscar Martello. Ho letto il tuo libro, voglio conoscerti. Ecco, questo è il genere di colpo di scena di cui parlavo. Oscar Martello, uno dei più importanti produttori di cinema a Roma. Fa il culo! È uno che va dritto anche quando ci sono le curve. Questo diventerà un capolavoro, un grande film. Allora, lei è mia moglie. Un grande progetto per te. Un film straordinario. Troppo bella per essere vera. Sembra qualcosa per cui varrebbe la pena rischiare. Il film è una merda. Come possiamo salvarlo? Con la promozione. Tipo che questo è un film sulla camorra. E noi facciamo finta che la camorra non vuole che esca. Sochi! Lei ha un'altra spiegazione rispetto al rapimento? Oscar ti promette l'inferno, poi ti ci porta a te ti ci lascia quel conto da pagare. Io ti ho preso dalla strada. Ed è lì che tornerai. Tu devi capire cosa sono disposto a rischiare. Bravo! Tu cosa ne sai che io non so mentire? Non era così che me l'ho immaginato. Potete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!